Sia dal tuo Magiaro, ti propongo un dibattito sui diversi comportamenti della polizia nella Germania e nella Francia dell'era Merkel e Macron. La fonte è il TG europeo di Hirteve. Il Pride di Berlino è stato autorizzato e la polizia ha guidato il corteo con decine di migliaia di partecipanti, mentre le manifestazioni contro le politiche anti-covid governative sono state vietate e i manifestanti, anche anziani, donne e ragazzi, sono stati oggetto di brutalità. C'è chi ha fatto paragoni con la polizia bielorussa. Le autorità tedesche stanno estendendo o restringendo lo Stato di diritto? In Francia ogni settimana milioni di persone protestano in strada. Si tratta di una ribellione economica o una lotta per la libertà? Gli ospiti sono la politologa Shosh Esther Petronello, per la Francia l'analista ex poliziotto a Berlino Georg Spötle per la Germania. I dranti, manganelli, lacrimogeni sono cose a cui la Francia si è abituata negli ultimi anni, parte dell'eredità politica di Macron. La Francia è stata la pripista delle proteste europee. Alla base il malcontento su diritti, libertà, divisione sociale e soprattutto dopo le decisioni del Presidente della Repubblica sui vaccini. La statistica ufficiale parla di qualcosa come il 60% dei francesi ancora favorevoli alla politica Covid del Presidente della Repubblica Macron. Dunque vaccinazione obbligatoria per il personale sanitario e uso estensivo del Green Pass nella vita quotidiana. Importante è stato il sì, la sentenza della Corte Costituzionale dell'altro giorno. Cosa c'è di costituzionale nel poter entrare in un bar solo se in possesso di un certificato? Siamo nei limiti dello Stato di diritto? Vengono rispettati i diritti personali? Queste misure dure sono necessarie veramente? Per la Corte le conseguenze sulle vite dei cittadini non saranno pesanti, ma la rabbia popolare cresce in fretta. Chi manifesta ha ragione nel sostenere la violazione delle libertà democratiche? Il punto è, le proteste cambieranno la società francese? Il 40% dei sondaggi ufficiali diventerà rapidamente maggioranza? Macron rischia di cadere? Anche qui i sondaggi ufficiali danno il Presidente è stabile, ma con un paese arrabbiato e nel caos i guai per lui sono dietro l'angolo. C'è una voragine tra il paese reale e l'elite politica. Il Green Pass difficilmente convincerà tutti quelli che non vogliono essere obbligati alla vaccinazione. Si tratta di un grosso rischio politico. L'anno prossimo ci sono le elezioni. Le proteste dilagano anche nella confinante Germania, nonostante il no dell'autorità, le stesse che plaudono ai pride oceanici. Siamo di fronte a un tremendo doppiopesismo. Il più grande pride tedesco di sempre, 65.000 persone in strada, nessun distanziamento, poche mascherine, poca igiene, zero obblighi. Se anche solo 5.000 persone protestano contro la politica anti-covid della cancelliera Merkel, vengono trattate molto male dalla polizia per usare un eufemismo. Le immagini parlano chiaro, gli ordini arrivano dai vertici delle forze dell'ordine e dalla politica. Alla base il no della politica alle manifestazioni legate al covid. L'uso della forza sarebbe giustificato dalla presunta difesa della salute pubblica. Ai pride evidentemente il virus non risulta contagioso. Nell'ovest Europa nessuno si azzarda ad attaccare duramente la santissima dottrina LGBT. I pride sarebbero stati approvati dalla polizia anche con condizioni ospedaliere ben peggiori delle attuali. Molti tedeschi sono contrari alle pressioni sui vaccini, molti lo erano già per la quarantena obbligatoria al rientro delle vacanze all'estero. La politica non è tutta uguale. Il candidato alla cancelleria della CDU, Armin Laschet, richiama la cautela. Piano con gli obblighi e la durezza. No a cittadini in serie B. Questa non è più democrazia. Società e politica sono divise. In Francia quanto è possibile ricollegare il malcontento alla repulsione nei confronti del presidente? Quanti francesi sono scettici verso il vaccino? La società è stanca e non vuole sentirsi ricattata in termini di libertà concesse dalla politica. La dichiarazione di Macron, quella dell'idea della vaccinazione obbligatoria per tutti in autunno, ha peggiorato la situazione. Agosto non ci darà molte risposte. Tra non molto però, sapremo se avrà la meglio il governo in movimenti come quello dei gilets jaunes, dei gilets gialli. A settembre sapremo quanto è protagonista la folla, se la Francia riuscirà a mostrare la strada agli europei che non sono d'accordo con i governi super allineati. In Germania la polizia ha un doppio standard evidente, molto più morbida nei confronti degli estremisti di sinistra, ad esempio verso Antifa. Al G20 hanno distrutto Hamburgo, miliardi di euro di danni. Polizia alquanto tollerante. Verso chi è più scettico sul Covid, come l'estrema destra e alcune comunità musulmane in Germania, la polizia agisce molto più energicamente. Probabile un ordine dall'alto a bloccare ogni possibile spiraglio di visibilità e crescita all'estremismo, non di certo quello di sinistra o quello islamista di chi è arrivato da fuori. Dai commenti dei tedeschi sui media sociali è chiara la paura ad esprimere opinioni considerate dai neoliberali inaccettabili. La famosa libertà di pensiero del famoso Stato di diritto europeo non è assolutamente garantita. I confronti tra opinioni opposte su flussi miratori, Covid o LGBT non sono più ben visti nelle università, non alle critiche antigovernative in pubblico, altrimenti si rischia il posto di lavoro. Ci sono stati studenti che hanno denunciato i propri docenti universitari per idee incompatibili con l'egemonia neoliberale. La stampa idem deve seguire questa dottrina Merkel. Anche in Francia si assiste all'incapacità delle piazze di trasformarsi in formazioni politiche centrali nel dibattito pubblico, anche extraparlamentare. Sta di fatto però che i temi della polizia, dei passi e dei flussi saranno protagonisti della prossima campagna elettorale. Staremo a vedere quanto delle piazze sarà rappresentato dai partiti dell'attuale opposizione, a cominciare dal Rassemblement National di Marine Le Pen e dall'AfD di Moiten e Gauland. Se vuoi combattere insieme a me questa vera e propria guerra culturale dell'informazione, sostieni il canale anche mensilmente attraverso i metodi indicati in descrizione, condividendo il video con un mi piace dicendo la tua nei commenti. Grazie per aver visto questo video, Viva l'Italia, Hoi Ramoglio Lorsal.